Mi sa che c'è qualcuno che vuole sparare al nostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il punitore, The Punisher. Ma Spidey, con la sua ragnatela, gli blocca il fucile. Il punitore gli sta dicendo a Spider-Man di andare subito al deposito 65. Io vi saluto, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace. Ciao a tutti.